amici telespettatori buonasera dal lungomare caracciolo di napoli in seno al bufalo fest dolce salato va in scena stasera che laurea ha laureato 40 cuochi e nuovi pasticceri e siamo proprio con uno dei due pilastri portanti il pasticciere aniello di caprio cosa sforna adesso chi è il pasticciere di dolce salato immesso nel mercato internazionale allora buonasera a tutti noi questo trimestre abbiamo tirato fuori dieci allievi e si dieci allievi già sono collegati tutti in delle strutture recettive dove inizialmente fanno un percorso di stage se vogliamo dirne qualcuna riguarda le strutture che ospitano i ragazzi forse uno che ci viene in mente e forse conosceranno un poco tutti è Ernest Canamma che ospiterà uno dei nostri allievi ecco qual è la vocazione di questi allievi e quanto dura il vostro percorso formativo per porre le prime basi a questi grandi maestri artigiani allora il percorso formativo dura 600 ore dopo di che poi con la comunicazione della regione successivamente fanno il fanno l'esame dove poi acquisiscono la qualifica in questi tre mesi noi che cosa facciamo noi cerchiamo di mettere sul binario i ragazzi per far sì che per far sì che fanno un lungo e grosso viaggio ecco come abbiamo sfatato il mito che lo chef la figura è maschile per la pasticceria come stanno le cose maestri ma negli ultimi periodi c'è grossa presenza femminile e se io oltre a quello che è la scuola ho anche una pasticceria e posso dire che la presenza femminile internamente ai laboratori è molto più massiccia e si fa anche sentire in modo positivo peppe d'addio chef abbiamo detto che lo chef per antonomasia è maschietto tu nella tua scuola dolce e salato fai della tua passione un mestiere e il tuo master message per i tuoi grandi allievi questo è un bellissimo slogan che cerca di trovare un po' l'entusiasmo negli occhi di questi ragazzi che molto spesso è un po' spento e noi docenti noi maestri abbiamo un compito che va oltre l'insegnamento della materia la cosa più difficile non è insegnare il mestiere del cuoco del pasticciere del pizzaiolo insomma quello che la dolce e salato quotidianamente svolge ma soprattutto quello di trasmettere l'animo la parte interna che va oltre la conoscenza ecco voi arrivate a laureare questi queste eccellenze attraverso un percorso che parte prima dalla cultura in generale poi dalla tradizione dalla valorizzazione dei prodotti tipici e anche delle bellezze unesco e naturalistiche poi anche dei corsi d'inglese insomma mettete proprio tanti ingredienti è il caso di dire in questi chef del terzo millennio è proprio vero è un percorso trasversale che alla scuola dolce e salato si compie in primis in tre mesi di attività di laboratorio tra formazioni nozioni pratiche istruzione anche molto spesso si fa un passo indietro sa quando si va verso una scena di teoria di pure nozioni si va verso il mondo della attività legata all'istruzione e poi dopo si passa alla formazione tutto quel mestiere fatto da artigiani come noi i quali insegnano a muovere le mani l'evento di questa sera 11 luglio qui a bufala feste sul lungomare caracciolo di napoli lo abbiamo battezzato secondo il nome di mani e maniere dove vogliamo marcare un po l'allontanamento dei giovani dal cellulare dal touch insomma prenderli per mano e portarli verso il mestiere quanto conta l'amore in questa professione ma è fatto di tutto amore poi gli ingredienti sono altri anche la ricetta c'ha un suo bilanciamento un 70 per cento è fatto di materia prima una materia prima di primo ordine quello che oggi si chiama eccellenza territorio e stagionalità un 15 per cento è fatto di talento e altro 15 per cento è fatto di passione un'ultima cosa voi siete davvero internazionali poche sere fa siete stati vicino qua al consolato americano grande emozione avete provato ma i vostri allievi strizzano anche l'occhio all'oriente di che si tratta beh oriente occidente si incontrano credo che un po i profumi del oriente se li conico bene con le prelibatezze mediterranee della nostra dieta mediterranea del nostro patrimonio unesco riducendo il sale mettendo le spezie il matrimonio è perfetto un'ultima cosa mangiare sano e popolare inteso come ricchezza e non come povertà e anche con un occhio e un'attenzione all'ambiente in questo per la tutela del creato ma io direi mangiare sano e salutare è un diritto di tutti e per tutti mangiare bene un po soggettivo ciao Grazie a tutti.